Abbiamo raggiunto un totale di dosi di vaccini somministrati pari a 10.928 tra prime e seconde dosi, fa sapere il primo cittadino Adamo Coppola. Ci sono 7.961 concittadini che hanno ricevuto almeno una dose. Ieri, sottolinea il primo cittadino, presso il centro vaccinale Covid-19 città di Agropoli non si è tenuta la seduta vaccinale per mancanza di vaccini. Le somministrazioni riprenderanno regolarmente a partire da oggi quando è previsto un nuovo approvvigionamento. Nel prosieguo verranno somministrati quasi esclusivamente vaccini Pfizer e Moderna. Invito tutti i concittadini che non lo avessero ancora fatto a iscriversi sulla piattaforma dedicata al fine di sottoporsi al vaccino. L'obiettivo è raggiungere entro il prossimo primo giugno il 50% di popolazione vaccinata. Per quanto riguarda i nuovi casi di positività negli ultimi giorni sono stati riscontrati quattro soggetti contagiati e due guarigioni. Il dato di positivi attuali sale a 37, mentre il numero di guariti è pari a 364.